Da dieci mesi a sostegno di un presidio in un camper di fronte a Palazzo Silone, sede della Giunta Regionale d'Abruzzo, ormai stanno perdendo le speranze i lavoratori dell'ex Intex. La strada dell'inferno e la stricata di buone intenzioni, dicono. Tante buone intenzioni e tanto impegno, impresse e impaginate in articoli sulle potenzialità di progetti e soggetti industriali, scomparsi però prima di arrivare nella città dell'Aquila. Così denunciano i lavoratori. I bilanci si fanno con i risultati di esercizio che, nel nostro caso, sono nulli e stanno portando dritti al fallimento del piano di ricollocamento dei lavoratori ex Intex. I lavoratori, tutti licenziati a dicembre 2017, sono oggi a chiedere aiuto alla Regione. Per noi, a sapore della beffa, dicono l'imminente convegno, ultimo dei tanti e inutilmente senza ricadute, organizzato dalla Regione Abruzzo, nei prossimi giorni, sui nuovi sentieri di sviluppo, su come ripartire dal patrimonio di competenze e puntare decisamente sull'innovazione. Lasciato alla deriva, il problema è solo di chi lo vive. Sebbene da mesi esista un complesso progetto per ricollocare i lavoratori ex Intex sul territorio, grazie all'accordo di alcuni grandi soggetti industriali e al coordinamento della Regione Abruzzo. Ma la soluzione che sembrava vicina si è arenata e il tempo per chiudere la partita sembra ormai stare per scadere.